Ciao, sono Paola Spiga, insegnante della Grand Jetet Dance Academy. Sono diplomata per la danza classica presso la Royal Academy of Dance di Londra. Andiamo a vedere il primo esercizio di oggi. Oggi con Ginevra studieremo lo changement. È un salto che parte dalla quinta posizione brava, faccio un bel piede, scambio le gambe in aria e atterro con l'utilizzo della mezza punta. Proviamo a farne due di seguito. E changement, changement. Grazie.